Ben ritrovati a questa edizione di economia prima e dopo condotta in studio in compagnia di Alberto Di Martino che saluto e a cui tra breve cederò anche la parola. In questo periodo è quasi impossibile parlare di economia e imprese senza fare riferimento al Covid-19 ma quello che è più importante tutti sono preoccupati della ripresa del post Covid-19. Lo faremo anche noi in questa puntata ma in un modo un po' diverso cioè ci occuperemo non solo degli aspetti tecnici ma affronteremo quelli che hanno una natura psicologica perché riteniamo che essi siano altrettanto validi e importanti quanto i primi. L'argomento però è così importante che non potrà essere esaurito in 20 minuti per questo abbiamo deciso di dedicare la successiva puntata allo stesso argomento. Nella puntata di oggi è ospite la dottoressa Silvia Cavoli e con lei parleremo delle cause e i possibili effetti di carattere psicologico del post Covid-19. Per introdurre questo argomento cioè l'importanza della psicologia nel mondo dell'economia in particolare nel mondo del lavoro voglio riallacciarmi a due note storiche. la prima molto più vicino a noi 2006 finalmente l'Organizzazione Mondiale per la Sanità per la Salute decide diciamo così recepisce riesce a mettere tutti d'accordo sul fatto che la salute di una persona non è l'assenza di malattia ma è un equilibrio fatto di aspetti e di dimensione fisica mentale, spirituale e sociale. Noi potremmo dire grazie è ovvio ma nel mondo economico non lo è stato e non lo è a tutt'oggi. E questo però si sposa con un secondo appunto storico che risale alla 160-200 d.C. la cosiddetta peste Antonina cioè una peste di vaiolo che ha letteralmente decimato sia le milizie romane sia le popolazioni che queste hanno attraversato ritornando dalla Persia da dove avevano appena combattuto contro i padri. Perché mi rialaccio a questo periodo storico? Perché è stato recentemente, 20-30 anni fa, sono stati ritrovati alcuni appunti su Papiro in cui viene citato un manuale, cosiddetto manuale della dea Sekhmet che era la dea delle guarigioni e la dea delle epidemie ed è considerata una delle dee più potenti che c'erano tant'è che era la dea dei faraoni anche, la patrona dei faraoni e questo manuale era un manuale riservato ai sacerdoti. In questo manuale viene ribadito come sia importante o meglio vengono suggerite delle formule di preghiera e di magia, un mix di magia e medicina per tranquillizzare le popolazioni egiziane soprattutto perché altrimenti, e questo è il rilievo importante, potrebbero non più lavorare perché impaurite, intimorite e quindi tendenti alla fuga. E quindi il passaggio era, attenzione, che se vanno via i lavoratori, i faraoni non hanno più, come dire, i loro introiti, l'equivalente dei tributi attuali. Quindi una cosa che era già stabilita 2000 anni fa, poi si è persa un po' nel corso della storia. E qui mi riallaccio alla nostra ospite alla quale pongo la domanda. Secondo lei, dottoressa Cavoli, questo periodo di virus, non tanto la quarantena in senso stretto, ma l'impatto che ha avuto a livello sociale, mediatico, economico e sociale, avrà delle ripercussioni anche a livello psicologico sulle persone, sui singoli individui? Allora, prima di tutto vorrei ringraziare il dottor Di Martino e il dottor Fischietti per questo invito e per questa opportunità che mi viene offerta. Sicuramente sì, l'impatto di questa emergenza coronavirus, di quello che stiamo attraversando e che continueremo ad attraversare perché chiaramente sappiamo bene che non usceremo dalla fase 1 e sarà tutto finito, anzi tutt'altro. Però noi dobbiamo pensare che l'emergenza coronavirus di fatto ha proiettato tutti con una estrema rapidità in una condizione che ha determinato una perdita repentina e in alcuni casi drammatica di tutte quelle che erano le nostre abitudini consolidate, di tutto quello che riempiva in maniera anche rassicurante la nostra vita e di tanti punti di riferimento che per noi erano, se vogliamo, anche scontati. A partire dal primo caso diagnosticato il 21 febbraio, se non sbaglio, in un rapido susseguirsi di decreti e ordinanze, le persone hanno dovuto praticamente da un giorno all'altro, nell'arco di pochissimo tempo, cambiare il proprio modo di lavorare. hanno dovuto rinunciare ai momenti di socialità. Chi per esempio ha genitori o familiari che non abitano nella stessa casa, comunque non in prossimità, ha dovuto rinunciare a vederli. Per esempio pensiamo che gli ausili tecnologici che possono essere un sollievo nell'isolamento, nella distanza sociale, non sono sempre così facilmente utilizzabili e così fruibili da persone anziane, quindi manca anche quel piccolo palliativo. Per alcune persone la tecnologia non è realmente alla portata di tutti. Un'attività semplice come fare la spesa, per alcune persone anche piacevole, è diventata all'improvviso qualche cosa di pericoloso, qualche cosa che diventava fonte di rischio, che doveva essere gestita seguendo una serie di procedure di distanziamento, di attesa, disinfettando le mani, disinfettando i carrelli. È diventata un'attività da cui abbiamo per esempio dovuto proteggere i nostri anziani. quindi qualche cosa di, se vuoi, banale della nostra quotidianità è diventata una delle cose irrinunciabili ed estremamente pericolose. E fin qui siamo ancora in una condizione, se vogliamo, privilegiata, perché questa è la condizione di chi ha vissuto, vive la quarantena, nel periodo di lockdown, senza particolari sconvolgimenti. Ma sappiamo bene che non è così per tutti, anzi, tantissimi hanno dovuto attraversare dolori e fatiche ben più importanti, perché tanti purtroppo il lavoro l'hanno perso. Molti piccoli imprenditori, con tutta l'angoscia che ne deriva, sono entrati in una situazione di crisi che mette in dubbio la stessa ripartenza della loro attività. Molti hanno perso parenti, familiari di diverso grado, hanno perso amici. E li hanno persi senza avere la possibilità di vederli, senza poterli accompagnare, senza poterli salutare, né prima della loro morte e neanche dopo. Hanno vissuto questo vuoto, questa assenza che ha portato via i loro familiari, senza neppure sapere che cosa e come veniva fatto per curare i loro cari. Non solo, ma questa triste sorte è toccata anche a chi ha perso familiari nel periodo coronavirus, ma non affetti dal coronavirus, perché comunque l'impossibilità di stare vicina ad una persona malata, per quanto vicina, a noi cara, e l'impossibilità di accompagnarla nel rito funebre ha riguardato tutti. Non ha riguardato solamente le persone affette da coronavirus. Non solo, ma persone che si sono ammalate, non hanno avuto magari bisogno fortunatamente del ricovero, però hanno dovuto gestire il periodo di quarantena ed isolamento. A volte, senza neppure sapere che cosa avevano, perché i tamponi non potevano essere ancora oggi di fatto, non vengono fatti sempre, non vengono fatti a tutti. Quindi hanno vissuto nell'incertezza dell'essersi o non essersi ammalati. Pensiamo, per esempio, magari ad una persona che vive sola, che non sta bene, quindi è costretta alla quarantena, ma che magari ha difficoltà anche a farsi arrivare i beni di prima necessità, perché purtroppo nel periodo clou dell'emergenza non era così semplice poter rispondere a tutti. richiesti innumerevoli, erano innumerevoli e sicuramente era complesso arrivare ovunque. Ma anche più semplicemente uscire di casa nei momenti iniziali in cui i dispositivi di protezione individuale non erano reperibili, per quanto consigliati, era un elemento di ansia per noi stessi, ma poi abbiamo osservato anche la paura reciproca tra chi aveva la mascherina e guardava con sospetto, con diffidenza e magari con aspi o chi non aveva la mascherina, ma magari non ce l'aveva perché non si trovavano le mascherine. Una parola poi particolare va sicuramente a tutte quelle persone che sono state e sono tutt'oggi in prima linea, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, non solo quelli che lavorano nell'RSA, ma tutti quelli che lavorano in quelle situazioni di residenzialità che hanno necessità di proseguire ed è fondamentale che proseguano, ma anche categorie più trasversali delle nostre vite che comunque hanno offerto e continuano ad offrire un servizio essenziale, come possono essere per esempio banalmente anche gli operatori ecologici o i commessi dei supermercati, che sono stati in una condizione di esposizione maggiore rispetto a tanti altri, con tutte le paure e le ansie che possono derivare rispetto alla salute propria e alla salute dei propri familiari. Allora, una serie di stravolgimenti veramente traumatici, devastanti per l'equilibrio della nostra quotidianità e della nostra emotività, così rapidi da esseri difficili da elaborare, quindi che lasciano, come dire, aperto un lavoro di elaborazione che dovrà essere fatto e che inevitabilmente hanno un impatto emotivo estremamente forte, che noi ci porteremo un po' dietro nel corso del tempo e che avremo bisogno di recuperare e rielaborare. Ecco, dottoressa, nella quotidianità, nella vita di ognuno di noi ci sono sentimenti che sono una normale reazione ad alcuni avvenimenti. Mi riferisco per esempio al fenomeno dell'inibizione, che è una reazione quando si ha un lutto o una ferita sentimentale. Ovviamente è un periodo di transizione che, se si dovesse prolungare, però crea dei problemi. Siccome non siamo in una condizione di normalità e quindi siamo in una circostanza particolare, quali possono essere quindi le reazioni che potrebbero scatenarsi a questi fenomeni? Allora, diciamo intanto che lo stress in una fase iniziale determina uno stato di attivazione, come anche giustamente lei ha accennato, che è utile e permette di affrontare nella maniera più adeguata una situazione difficile, contingente, reale, oggettiva. Nel momento in cui però questa condizione di stress si prolunga in maniera eccessiva e arriva a sollecitare in maniera eccessiva e prolungata, si possono appunto verificare delle condizioni di stress che possono essere anche le più varie. Le reazioni individuali allo stress si diversificano anche in base alle caratteristiche di ciascun individuo e alle proprie risorse personali, sia in termini proprio di punti di forza che elementi di fragilità che ciascuno di noi possiede. Quindi possono appunto comparire reazioni che possono andare da sintomi di carattere psicosomatico, manifestazioni di ansia, depressione, abuso di psicofarmaci, abuso di nicotina. Per esempio un fumatore potrebbe ritrovarsi a fumare più sigarette, abuso di alcol o in generale laddove è presente un comportamento di dipendenza patologica o un abuso sicuramente la dipendenza va incontro ad una esacerbazione in una condizione di di stress. Per contro è anche possibile che non vengano messi in atto comportamenti compensatori per quanto dannosi, disfunzionali di questo genere, ma le persone cadano in una condizione di passività, di immobilismo e di totale chiusura per esempio rispetto all'esterno e anche rispetto alla possibilità di mettere in atto strategie funzionali. Quindi le situazioni di stress nel tempo, se non vengono adeguatamente gestite, affrontate e rielaborate, possono effettivamente dare luogo a dei disturbi molto importanti, fino ad arrivare anche ad un disturbo post-traumatico da stress. Siamo tutti esposti a questo, ma chi si è ammalato o chi ha subito delle perdite sicuramente è più a rischio ed è più esposto. Il lutto è sempre un'esperienza drammatica che richiede un percorso di elaborazione e di integrazione nella propria vita, nella propria economia psichica e che attraversa delle fasi che per quanto dolorose sono fisiologiche. In una condizione drammatica come questa però ci sono tutta una serie di fattori di rischio rispetto alla corretta evoluzione di un percorso di elaborazione del lutto. Basta pensare insomma alla rapidità per esempio con cui il quadro clinico può deteriorarsi. Il trauma della separazione dalla repentina, dalla persona che viene ricoerata, l'impossibilità di avere delle informazioni quotidiane sulla sua condizione di salute, l'impossibilità di vederlo, di accompagnarlo negli ultimi momenti della sua vita, l'impossibilità di vedere il defunto, di avere un rito, di avere il funerale, di avere un momento di passaggio e anche di ritualità sociale. Perché poi i familiari rimangono isolati in quarantena dopo la perdita e non sono neanche in quella condizione appunto di sostegno sociale, di integrazione nella comunità. Non ultima la possibilità di perdite multiple perché purtroppo in una stessa famiglia è possibile che ci siano più decessi. Quindi a questo si sovrappongono, si possono sovrapporre degli stati emotivi importanti, di rabbia, di senso di colpa per essere magari essere stati il veicolo del contagio, un senso di impotenza rispetto alla possibilità di comprendere quanto accade. Il fatto di essere parte di una tragedia collettiva può essere un elemento di sollievo, ma è un sollievo ben blando rispetto a quanto poi il lutto arriva in una maniera profonda nell'emotività di ciascuno di noi. In condizioni di stress reiterato e prolungato o nella difficoltà di un percorso di elaborazione del lutto facilmente possono comparire sintomi come incubi, disturbi del sonno, ansia, depressione, una forte irritabilità. Ecco, questi sono i segnali più comuni che poi possono, ecco, dopo un periodo iniziale, se non adeguatamente affrontati, anche evolvere in un disturbo più persistente. Mi sembra quasi di essere sacrilego nel parlare di economia imprenditoriale, dopo le cose che ci ha raccontato. Questa è però la prospettiva sulla quale abbiamo costruito questo ciclo di trasmissioni. E quindi mi viene spontanea la domanda. Allora, da un punto di vista di, chiamiamolo, gestione delle risorse umane, ma anche di tenuta della, come dire, tenuta psicologica, psichica dell'imprenditore, possiamo ravvisare almeno delle aree di preoccupazione oppure delle aree di intervento, perché il rischio che noi stiamo paventando da un po' di tempo è che appena si aprano i cancelli, tutti si metteranno testa bassa a lavorare 15-18 ore al giorno, perché bisogna recuperare un mese, due mesi di fatturato. Però non è detto che, come dire, l'imprenditore regga questo sforzo, che l'imprenditore come persona regga il carico, lo stress e la sua preoccupazione di rimanere in piedi, così come non è detto che le persone che stanno all'interno dell'azienda, come siano ancora lì, ma non tanto fisicamente, ma siano lì psicologicamente, abbiano voglia, come dire, e tranquillità nel lavorare. Secondo lei quali possono essere gli impatti dal punto di vista del processo produttivo? Beh, credo che il tessuto imprenditoriale dovrebbe veramente ispirarsi ai faraoni che sono stati citati. Allora, in un quadro di questo genere, in una situazione di sofferenza come quella di cui un pochettino abbiamo accennato, le persone possono ritrovarsi a rientrare in aziende, riprendere le loro attività lavorative in una condizione di forte deprivazione emotiva. Può succedere che le persone si ritrovino a rientrare al lavoro prive di energia, prive di risorse da mettere in campo, proprio perché sono reduci e sono ancora coinvolte in un percorso di fortemente stressogeno e in alcuni casi, purtroppo, più drammatici, magari un percorso di rielaborazione personale delle proprie perdite. Per cui può succedere che compaiano sintomi ansiosi o depressivi, la difficoltà di concentrarsi su un compito, un senso di profonda irritabilità, quindi magari poca disponibilità ad accogliere le esigenze pressanti di un'azienda che, come giustamente veniva detto, è concentrata sulla ripartenza e sulla dimensione produttiva, quindi è propensa a chiedere piuttosto che ad accogliere, diciamo. Ma voglio dire, gli imprenditori dovrebbero, a mio avviso, tenere presente che le persone che rientreranno al lavoro forse non saranno proprio come le persone che da quel lavoro se ne sono andate uno o due mesi fa, ma saranno delle persone provate che rientreranno in un contesto di lavoro che esso stesso non sarà più uguale a prima, perché la nostra quotidianità lavorativa sarà diversa, sarà cambiata, anche solo per le necessità imposte dalle misure di sicurezza che dovranno essere adottate. Un elemento importante del contesto di lavoro è il clima, l'atmosfera che si crea all'interno dei contesti lavorativi. Penso alla banalità della pausa-pranzo, per esempio, nel momento in cui questa viene vissuta all'interno dell'azienda o comunque fuori di casa. Diciamo che forse una delle sfide delle aziende e dei lavoratori dovrà essere quella di costruire degli strumenti di prossimità diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Questo noi lo dovremmo fare in realtà in ogni area della nostra vita, non è una questione che riguarda solamente le aziende, però concentrandosi sull'aspetto produttivo e sulla qualità del contesto di lavoro per l'influenza che questo ha sull'aspetto produttivo. Forse sarà necessario per gli imprenditori ragionare anche su una dimensione di accoglienza della sofferenza che le persone porteranno con loro. Non sarà strano un senso di irritabilità, di insofferenza o l'insorgere di conflitti tra colleghi o rispetto ai superiori. no? Il senso di non essere riconosciuto, il senso di non essere compreso. Perché comunque molte delle persone che rientreranno al lavoro porteranno con sé un dramma personale che deve avere un posto ovunque nella loro vita. Bene, siamo giunti al termine della puntata anche di oggi. L'argomento così importante è che 20 minuti sono davvero volati e secondo me abbiamo anche sforato un po'. Personalmente, prima di cedere le conclusioni ad Alberto, mi sento di aggiungere poche cose. Credo personalmente che l'attività lavorativa che ognuno di noi svolge, proprio perché copre gran parte della nostra giornata, deve essere fatta di gioia e di piacere. Non ci dovrebbe essere spazio per l'insoddisfazione, perché questo poi potrebbe portare allo scarso impegno e quindi incide sulla produttività, che è uno dei tanti parametri che le aziende tengono sott'occhio. Ci sono però degli aspetti che sembrano ininfluenti ma sono determinanti. Quindi posso aggiungere soltanto ciò che dissi un giorno a un imprenditore che era lì attento mentre faceva la sua ennessima assunzione a far infilare all'interno del contratto quanti più vincoli perché era convinto che solo in tal modo lui ogni volta che assumeva, assumeva una persona che sarebbe stata una persona ligia all'azienda e ci perdeva le giornate a fare questo. Io gli chiesi un giorno ma scusa perché fai tutto sto popolo di roba? Perché così mi assicuro che i miei dipendenti siano quelli che io voglio, siano i più bravi, siano i migliori. Anche lì dici guarda nessun contratto potrà, tu ci potrai mettere tutto quello che vuoi. Ma non ci sarà mai nessun contratto che dirà che la persona assunta lavorerà con abnegazione, con senso del dovere, con senso di appartenenza. Quelle cose non si scrivono, si creano all'interno dell'azienda. Come conclusione vorrei con oggi, con oggi continueremo giovedì provando ad ipotizzare delle soluzioni, puntare il faro su questo post-pestem, cioè sul fatto che non è che il 4 maggio, il 18 giugno o il giorno che sarà riapre tutto e tutto bene, tutto come prima, l'abbiamo già visto, le cose cambieranno profondamente, non saranno solo cambiamenti tecnici, strutturali o di sicurezza, ma saranno soprattutto cambiamenti nella vita delle persone e di conseguenza nelle persone, quindi nelle proprie relazioni con gli altri e venendo meno, se vogliamo, l'equilibrio sociale tra la gente, è chiaro che ne viene meno anche il benessere stesso della persona, cosa che in fondo è l'obiettivo, se vogliamo, di tutta la macchina, di tutta la realtà sociale. A questo io ringrazio la dottoressa Silvia Gavoli che è stata preziosissima, ringrazio Giuseppe, sempre presente, e rimando a tutti per dopodomani sulla puntata dedicata alla comunicazione all'interno dell'impresa. Grazie. Grazie. Grazie.